monitor no perché l'ho lasciato giù a roma e mi hai dovuto usare come secondo monitor il telefono lol due chiavi due chiavi suina guarda che cazzo ha scritto abbex in chat dove? in chat della live sto pure mangiando pandistelle suino guardalo come intoppa pandistelle a tradimento let's go no quello non possiamo farlo sennò rubiamo i diritti e i copyright di quel personaggio che non possiamo citare qui perchè siamo in live con il nostro streamer quindi ma che cazzo succede qua non sa la gianna una live debili whisky debili billy billy willy willy oh mi sembra di no lo tieni tu ah che fai c'è a me lo fare faccio io e c'è rispetto ai pallet ragione qua non ce ne stanno i libili sui non c'è la nea pure con la doccia bene frattempo io minchia giocata bene ora come c'è una data ok ok ma ecco il genere l'ho trovato avrebbe gradito ma che ha visto me ho t'ha lasciato t'ha lasciato ecco la c'ha il coso c'ha che ti motosega subito come si chiama è tuo ah easy blind my friend test seleziona la gara la cammella lato prima no lato lato proprio lato di non c'è capo fai teletrasporti brutti fa lui non gli interessa rischio lato lato vai 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 non si preoccupare ma dove cazzo è stato del trasporto no non c'è cascato come prende si però raga quai ci vuole andare veramente a fare fast russi gen proprio eccolo ha visto moni oh ma che cazzo è sto lag oh no ma lag di brutto ci fai il teletrasporti ci fa e tu moni ci sei? ok ci sei tu vai si dopo un quarto d'ora mi è alzato la torcia oh lag no raga c'è l'uscino qua non c'è l'uscino qui non mi conviene mica no raga lagga lagga no lagga vai teletrasporti qua per favore ce l'ha con me guardalo no raga come si fa con le lagga avrà di legge abex che sta scrivendo no no penso se c'è stato si guarda come cazzo no come cazzo fai motoseghi questo ho preso no ma fare cose strane questo aspetta no lo porta all'altro uscino io sono full ok guarda come si deve trasporti vai nooo andate vada via da qua sforzata prima ora la torcia qualcuno mangia con le asuine mi ha toccato il genere qua eh fatelo voi fatelo voi eh ci voglio farei ci ci penso io faccio mai questo qua questo qua vai vai fai il genere no no fai il genere che mi cura da solo te la con me il tizzo eh ah ok e vado a si legge abex che sta a scrivere devo salvare a quello però a tutti i costi a costo di di lasciarci il culo no no aspetta prima che arriva al secondo no non ce l'ho fatto pensa se c'è 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 quella legge quello che sta a scrivere abex allora io salvo ai oxy no vabbè raga questo disto lagga come le merde lagga come le merde oh ma che succede? ah lagga si veramente si veramente che aveva al ping verde io quello l'ho salvato ma però mi sa che muore col borderline ma perchè? con la con la chat no? devo fare il show fight degli insulti io voglio che si vedano le drogasche e i bestieni io voglio la live infatti mo dopo metto bene ce l'ha con me oh! voleva lui calcola non si lasca le finte fra questo guarda puntana gli disbatte sul muso una tonna fra incassato nero chi me eh mo che cazzo tu eh lo so eh mo son cazzo mia si a porto anzitonzitonziton 1 1 no no a 5 ma vai ma ma scritto gaio rega fate un genere che giuro diavolo no fate un generale se non moriamo tutti e 4 abex amore a quello che scrivi è che c'è saccaio no perché questo maschio spostano ma si era quasi bella grande vision a me non me ne frega proprio un cazzo ma a me non me ne frega più niente ma i geni dove sono? eccolo eccolo ma dove sono i geni? i tuoi non lo so sono dall'altra parte sono dall'altra parte della massa sto a cercare sto a cercare i vari così mi piace mi provo no vabbè pure di sentire oh guardalo che liscio incazzato nero incazzato proprio incazzato nero incazzato vaga vuole me proprio un desiderare evidentemente si 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 c'era il fettore di figlia che ti devo dire mamma mia rega mi stavo gratternato ho sbagliato skill check per un po' vaga non riesce ce l'ho io ce l'ho io non mi lascia non mi molla un momento ma io quando dai cattivo Ioni no? e così la tastiera può stare su dicio e appunto così si si sporco e credo che non sia aperto eh infatti tieni qua ma che te sei in c***a? oh tu eh 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 madonna mi ha fatto un pelo vada Claudio porca pozz sei tu sei tu io sei tu io sei tu io sei tu io hai fatto quanto me manca? no la mori ma la mori la mori la mori la mori no c'è lei si sono morto prendetevi la doccia se volete come sei morto fra eh ma ha fatto la mori non avevi sentito di 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 duuuuude no no la mori è pura questo ma non c'è il signore no siamo soli che è te è morto lo c***o sta nel gem io sto a fa uno io ti consiglio di cercare la botola no no ma non direi almeno intanto lo facciamo insieme ma io sto a 4 per 4 ma se il gen arriva no niente non più non so cuore da me aspetta che dimmi se di piglia eh io faccio sto generatore qua vabbè mutatemi poi boccati ma che c***o ma dov'è? al gen è andato oddio oddio è passato dietro non l'hai sentito no ecco maggio a lui vai franco no oddio mio chiacchia liscio guardalo è incazzato nero è incazzato oddio lo leva c'è incazzato ma basta ma perchè vuole a me occhio se n'è andato l'ha lasciato è inutile vieni qua vieni qua di bianco vieni qua dammi una mano però tu morino a pex tu morino a pex te la fette nello c'è bisogno d'una mano eeeh se sei n'amberto guarda da dove viene indovina un po' guarda che tocca il mio gen io lo rifaccio non touch my gen eh fai un altro gen intanto io lo tengo qua la 4 no lui fai avanti indietro uh quella sta al 99 oh ma che è successo qua che è mongolo qua e qua dammi una mano qua arrivo sto blind appena arriva no niente niente si si a fra avresti gradito diciamolo diciamolo avvocato diciamolo no 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 finisci quel genere se ne prendo mori ma la messo sull'uncino a me ma la ricordo ma la messo sull'uncino vedete la botola fra da un fondo cazzo sta io però che perk c'ha raga ah te lo dico subito allora mastro ferraio tanato fobbi all'uno agitazione al tre e barbacchia cili all'uno più mori rossa eh si per suino un po' gran cazzo olle ah guarda qua con la foto allo specchio via i mortacci tua farah brava ma guarda che non è che sta sulla collina la botola lui non lo so vabbè lo puoi blindare in teoria ma non so dove sta a botola vedi se è sulla collina no non stava sulla collina no non c'è o tu madre come rituale non capisco dove cazzo che tumore caio managgia il signore Marco che volevi? se volevi venire siamo in live con Feri Feri fa la live bella raga ciao ciao bello oh raga non trovo la botola mannaggia a quello lassù madonna madonna a me sta la botola cioè ha cagato dentro che si sente rumore zitto eccola in the face mori tre mori ma si li avete fatto mansi a per lui ti ricorda sempre che ha fatto zero beat no ti lo devi ricordare no ahahah tu 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 eh invitate vai che sto bene riguardo l'inizio no io non ero no non comincia con questi rituali ahahah mi invitate mi invitate quando volete raga io ci sono che per che putridi volete l'inizio che io che non ho l'inizio